Qui dal Mugello, partiti da Cerveteri con la nuova testata giornalistica Cerveterana Indipendente, creata dal sottoscritto Andrea Miganni, dove analizzeremo il tessuto umano che sta qui al Mugello. Per strada ha molti BMW GS, molti Ducati, mi aspettavo più Yamaha. Un R6 del 2000, veramente molto rispetto per tutto il panorama motociclistico, quando si vede una moto non si pensa dal listino le cose, si guarda una moto, da appassionati, veri, veramente molti BMW GS, qualche Africa Twin, poi ci sono i matti che al Mugello modifichano le motosiegie, che smarmittano i cismantini, è veramente il detto vero, al Mugello non si dorme. Il tessuto umano è veramente bello. Dopo il periodo del Covid qui si respira ancora la voglia di guardare una manifestazione insieme. Siamo qui al Mugello, eccolo qua, ci siamo appostati qua, proprio per gustarci questa curva abbastanza stretta, che adesso non mi ricordo il nome. Peccato, gli youtuber ci spatoleranno o ci spatiteranno perché non sappiamo il nome della città, ma l'avevo scritto sul video e me l'ho dimenticato. Buona visione e buon divertimento.